Ciao a tutti ragazzi qui Darkness e benvenuti a questo nuovo video su Warframe infatti oggi vi porto questo cortissimo gameplay di Warframe che tanto corto non è stato quando l'ho giocato perchè siamo durati un'ora su sopravvivenza Warframe è un gioco free to play che potete scaricare sul computer e in alternativa sulla Playstation 4 è molto diffuso e free to play non dovrete pagare un centesimo al massimo se volete proprio pagare perchè siete così stupidi che volete pagare a tutti i costi potete spendere soldi all'interno del gioco per comprare platini che vi serviranno a praticamente comprare le armi senza dover passare le ore a costruirle eccetera eccetera il solito principio paper win che c'è in tantissimi free to play per mettere su qualche soldo da parte degli sviluppatori nel senso avete capito no? in ogni caso questo è un gameplay gioco insieme a Ginga Boots che ha un canale si chiama il video del malandrino vi lascerò il link nella descrizione che tratta appunto proprio Warframe in particolare e l'altra persona con cui stiamo giocando è un suo iscritto e nostro amico che si chiama Daniel Marchisio saluto entrambi in ogni caso semplicemente molto molto brevemente questa partita è una partita di sopravvivenza io giocavo con Nova e loro due erano Rhino Nova principalmente ha pochissima vita, pochissimo scudo però in compenso riesce a fare dei danni incredibili infatti tutto ciò che facevo io era uccidere e morire e tutto ciò che facevano loro era rianimare e far durare la partita attivando queste colonne che servono ad aumentare il supporto vitale vedete a sinistra sotto la mappa c'è scritto sistema di supporto vitale che non deve mai scendere sotto l'1% non deve mai raggiungere lo 0% quindi praticamente io tenevo a bada i mostri, loro mi rianimavano quando morivo e si e Ginga invece andava in giro per la mappa ad attivare queste colonne che ci ridanno supporto vitale questo era più o meno la nostra organizzazione sfortunatamente eravamo solo in tre perché penso che se fossimo stati in quattro e magari il quarto giocatore fosse stato un Trinity, un curatore saremmo arrivati molto molto più avanti però sfortunatamente vedete che già adesso ho delle grandissime difficoltà a sopravvivere mi ritrovo al punto che il mio arco che in realtà fa tantissimo danno nel senso uccide praticamente ogni mostro al primo colpo a questo punto della partita non gli toglie praticamente niente devo sempre ricorrere alla mia skill finale e alla goccia antimateria che è in assoluto la skill che fa più danno nel gioco il danno dipende sempre dal danno che fa il mio arco però con un colpo riesco a fare 100.000 di danno e 100.000 di danno non bastano nemmeno più per uccidere una persona a volte ho fatto due calcoli e più o meno questi nemici a livello 91 avevano 300.000 di vita intorno lì quindi potete immaginare la fatica che abbiamo fatto ad arrivare al sessantesimo minuto di gioco e la cosa più brutta che vedrete a fine video sarà che quando sono uscito dalla partita quando siamo riusciti a vincere la partita nel senso a sopravvivenza si può uscire quando si vuole adesso i miei due alleati stanno andando Jinga e Daniel stanno andando alla fine della mappa e una volta raggiunta la fine della mappa la partita finirà per tutti e risulterà una vittoria ecco qua avete visto e la cosa più brutta è che una volta raggiunto questo punto avevamo raccolto un sacco di soldi avevamo raccolto un sacco di esperienza anche se non mi serviva e a me non ha salvato i progressi quindi ho perso tutta questa ora di gioco però non fa niente io l'ho fatto per divertirmi vi lascio come ho già detto il link in descrizione per il canale di Jinga se vi piace Warframe dovete andare a vederlo perché è davvero bravo fa video praticamente quasi ogni giorno ogni due giorni e tratta un po' tutto tratta un po' di come equipaggiarsi tratta un po' di come essere più forti tratta un po' sulle novità cosa devo uscire fa un po' di tutto e è davvero ben informato io ho finito di dirvi tutto come vedete questa partita è finita con più di 1000 uccisioni per me e noi ci vediamo al prossimo video bella ragazzi ciao grazie a tutti grazie a tutti